tornerà tornerà lui tornerà tornerà lui ragazzi dai ormai è troppo 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 evidente troppo evidente iscrivetevi al canale ragazzi like campanellina pollicione 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 non costa nulla e io vi ringrazierò per sempre un bacione a tutti come dico sempre belli e brutti mi raccomando il pollicione like 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 mi raccomando che importantissimo ragazzi è importantissimo ci siamo dai ragazzi ormai l'abbiamo capito ormai l'abbiamo capito dai che è troppo evidente che tornerà che tornerà antonio tonio ma ci sono anche troppe cose e quell'altro manda via agnelli lui ritorna ma voi pensate che se ci fosse stato ancora agnelli quella partita lì della dei del centenario della juventus ci fosse stato anche conte penso che agnelli anche se dicono che hanno fatto pace che ormai sono in una fase bonaria no però io penso che agnelli avrebbe avrebbe invitato qualsiasi altro giocatore anche de ceglie o stiga riba piuttosto di invitare colpa io credo che tra la partita poi io ho visto conte quando si è tornato a mettere la maglia della juventus ragazzi gli luccicavano gli occhi e ma d'altronde conte bene o male voglia non voglia è storia della juventus storia delle e io dico lo dico sempre piuttosto di avere di nuovo in panchina questo qua a parte che io che io e qualsiasi allenatore che venga è ben accetto il posto di questo perché questo questo allegri ha fallito ha fallito in questi due anni il terzo qui sarà lo stesso un fallimento perché sarà un fallimento parte che non abbiamo cempio ricordatevi bene come siamo usciti dalla cempio l'altro anno la più brutta cempio fatta dalla juventus in una maniera vergognosa vergognosa è quello è quello sta qua e quello sta poi la la maniera di andare fuori in semifinale anche in coppa uefa ragazzi troppe 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 troppi fallimenti troppi fallimenti il per il fatto che la juventus ti ha fatto anche calcio mercato sontuoso io con questa juventus con un altro allenatore specialmente l'altro anno specialmente l'altro anno qualcosa si sarebbe vinto questo questo allenatore ha fallito ha fallito e deve essere cambiato doveva essere cambiato già quest'anno vuoi farli fare ancora un anno sopportiamolo con un anno ma prossimo anno devi cambiare e poi questo conte anche che va in televisione in televisione a a fare la sua bella la sua bella presenza lì a belve e lui vuole tornare la juventus dichiarazioni d'amore ragazzi ho un debito con i tifosi della juventus mi son pentito di essere andato via dalla juventus tutto tutto questo qua per arrivare a ieri ragazzi a ieri essi essi perché il signor antonio conte era a torino ed è andato invitato invitato da montero a venovo a vedere l'under 19 insomma tutto 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 ovviamente non può non può anche non poteva andare alla continassa scherzate ragazzi però questo qua che piano piano torna avvicinarsi alla juventus a vinovo vedere io scommetto che è andato lì a vedere già qualche prospetto qualche prospetto sono sicuro ragazzi qualche prospetto di buon giocatore da passare in prima squadra io credo che prossimo anno antonio conte sarà sarà l'allenatore della juventus tornerà lui tornerà lui e devi fare però devi fare penitenza antonio è perché te lo ripeto quello di essere andato all'inter ma falli rivincere valeri vincere a me non va giù non va giù e mi dispiace poi l'ho capito che tu sei andato lì per 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 smerdare agnelli per prenderti una rivincita contro di lui lo capisco tutto quello che vuoi ma ma quello che hai fatto ragazzo mio ragazzo mio dovrai fare dovrai fare molto 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 per farti perdonare certe cose anche certe cose che hai detto è io lo so che tu dopo che vinto lo scudetto sei scappato via perché ti interessava vincere lo scudetto e andare fuori dalle pali a te interessava far chiudere il ciclo vincente la juventus l'ho capito ma ne hanno capito tutti però tu se vuoi tornare alla juventus devi fare ammenda e devi far tornare a vincere la juventus subito subito non me ne frega niente e se gli altri sono più forti meno forti giocatori che non me ne frega vuoi tornare alla juventus ben accetto ben accetto anche se io vi dico che qualsiasi allenatore è ben accetto al posto di questo allegri perché allegri lo ripeto ha fallito sotto tutti i punti di vista sotto tutti i punti di vista anche umano perché ha fatto delle dichiarazioni si è comportato in una maniera vergognosa e ha fatto delle dichiarazioni se volevo vincere andava in un'altra squadra ma chi cazzo ti prendeva te allegri ma chi cazzo è quel pazzo che ti prendeva da non vara guardate no 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 non siamo perdere va e siamo perdere comunque antonio antonio io ripeto ragazzi per me tornerà conte tornerà conte doveva già tornare quest'anno solo che per mandare via l'invertebrato l'impanchina ci volevano troppi soldi e il canno voleva sborsare ci sono troppi problemi ancora da risolvere ci sarebbe stato un sborso di denaro troppo troppo elevato per mandare via l'energumeno lì è un anno un anno ci può anche stare due sarebbero stati troppo pesanti anche perché tutti gli altri allenatori che sono mandati via specialmente sarri sarri è stato stra pagato quei due anni in casa e più hanno pagato anche un'altra clausola sono stati sborsati soldoni per sarri anche per pirlo quindi secondo me elca non se la sentiva di io penso che stanno già preparando tutto per il ritorno di conte un bacione a tutti like mi raccomando campanellina pollicione 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 e vi ripeto che a 150 iscritti 2150 1500 iscritti ci sarà un regalo originale per uno di voi è quindi iscrivetevi al canale ciao raga